ok partiamo bentornati o benvenuti a next cogeneration oggi abbiamo come ospite Mauro Bendici ciao Mauro ciao a tutti è un talk molto interessante e ci racconterà come fondare una startup di intelligenza artificiale come CTO Mauro lavora in Ghostwriter AI di cui è cofondatore e CTO appunto e dopo ci racconterà nel dettaglio la sua esperienza ecco diciamo così poi lascio la parola a lui che sicuramente è più preparato di me su questo argomento vi ricordo cos'è next cogeneration next cogeneration è un'iniziativa data da media di CSMT e di alcuni dei suoi partner i partner li vedete qua è l'Università degli Studi di Brescia Antares Vision Collice Plastico 4Solid Jexcel PQ Quadro Trim Informatica Gammy Industries e Talent Garden è un'iniziativa nata a fine 2019 purtroppo poi dall'inizio 2020 siamo cioè l'obiettivo è quello di fare dei incontri periodici in ambito community su tematiche di sviluppo software e tutto quello che diciamo è correlato all'argomento purtroppo dall'inizio della pandemia abbiamo dovuto trasferirci online siamo riusciti a fare qualche incontro fisico però meno di quelli che avremmo voluto fare sul sito next cogeneration.it trovate tutte le informazioni relative a next code anche le sfide di coding che noi proponiamo ad ogni incontro su canale CSMT gestione ci sono tutte le sessioni che abbiamo fatto nel 2020 e quelle del 2019 quindi se volete andare a recuperare qualche sessione vecchia potete trovarla lì e siamo anche sui social come su Instagram come next code generation e su Facebook ad ogni incontro appunto proponiamo una sfida di coding appunto è una sfida che permettiamo di partecipare singolarmente a squadre si può partecipare con qualsiasi linguaggio di programmazione c'è una classifica che viene tenuta a giornata e viene dato un punto per ogni soluzione corretta ad ogni incontro tre punti per il secondo e il terzo posto e cinque punti per la soluzione migliore quindi la soluzione migliore viene data su giudizio nostro in base a cinque parametri che è la correttezza del risultato l'efficienza dell'algoritmo lo stile di programmazione l'originalità della soluzione e la presenza di commenti la challenge del 2021 finirà appunto con l'ultimo incontro del 2021 e il primo vincerà un abbonamento annuale a Pluralsight quindi consideratelo perché diciamo è anche un bel premio questa è stata la prima challenge che abbiamo proposto il mese scorso purtroppo non c'è stato nessuno che ha vinto la challenge quindi non abbiamo ricevuto risultati corretti e lasciamo la challenge aperta quindi anche per la prossima fino al prossimo incontro quindi chi vuole comunque provarci potranno raggiungere i punti anche di questa challenge di che attualmente è vuota e questa è la challenge che proponiamo a questo incontro quindi chiamiamo P il perimetro di un triangolo rettangolo a 20 lati di dimensione intera A, B e C esistono esattamente 3 triangoli con P uguale a 120 e sono 20, 48, 52 24, 45, 51 30, 40, 50 la domanda è per quale valore di P minore o uguale a 1000 si riscontra il massimo numero di triangoli? insomma qua potete divertirmi avete tempo fino a domenica 25 aprile per partecipare come si partecipa? basta inviare una mail a challenge se ti faccio la nextcongeneration.it in oggetto dovete scrivere nextconchallenge numero 02 con il vostro nickname nel corpo chi partecipa quale linguaggio avete utilizzato il risultato l'allegato è obbligatorio e dovete darci il codice del programma in modo che noi possiamo valutare non vi preoccupate che a chi si è iscritto tramite Eventbrite o comunque sul nostro sito troverete il testo della challenge quindi non dovete prendere appunti adesso vi manderemo tutto se volete rimanere aggiornati aggiungete il numero in rubrica 371 168 89 30 inviate un messaggio su Whatsapp con scritto nextcode on e riceverete tutte le news relative a nextcode è un canale diciamo Whatsapp Business quindi potete ricevere la nostra newsletter anche su Whatsapp se vi interessa prossimo talk parleremo di sviluppo giochi puzzle game in ambito mobile con la tecnologia Flutter appunto il talk si chiamerà Flutter Flutter Game Development why not quindi vi spieghiamo per quale motivo dovreste usarlo e per quale motivo dovreste usarlo e parlerò appunto io insieme a un mio amico di Colo Festa e Tremol Talk il 28 aprile 2021 sempre alle ore 18 poi abbiamo aperto la call pro speakers quindi l'anno scorso diciamo abbiamo ottenuto i talk tra i partner di CSMT quest'anno abbiamo deciso di aprire anche a diciamo speaker esterni ovviamente c'è sempre una fase di valutazione da parte nostra quindi c'è un incontro appunto Mauro è arrivato attraverso la community di CodeMotion ci conosciamo se il talk che volete proporre è interessante pianifichiamo iniziamo un incontro ovviamente noi teniamo un incontro mensile quindi se volete mandarci una proposta l'ascoltiamo molto volentieri adesso ho parlato addirittura troppo Mauro sei carico? Sì sì ci sono sono pronto ok allora condividi lo scherzo pure e ti lascio la parola perfetto eccoci qua ecco scusate mi sono dimenticato di dirvi il il Flutter Game Development che faremo al prossimo talk è basato sul caso reale quindi ho sviluppato appunto con un mio amico questo gioco che è disponibile sul Play Store quindi per Android attualmente vedete il link nella chat e se volete andare a curiosare ovviamente parleremo di questo gioco il prossimo mese chiudo ciao dai mi presento io sono Mauro Bendici CTO e co-founder di Ghostwriter AI i miei riferimenti teniamoci in contatto li vedremo anche dopo ma della vita mi occupo fondamentalmente di sviluppo intelligenza artificiale era l'idea poi scopri che il CTO fa una marea di altra roba in più e nel frattempo mi diletto a far parte del gruppo sull'intelligenza artificiale per la comunità europea quindi la parte che non è solo tecnologia ma per esempio c'è anche etica vediamo la parte anche legale faccio il mentor per Techstar e sono anche il fondatore del Torino .net fra le altre cose il Ghostwriter AI fondamentalmente si occupa di capire gli intenti delle persone dei nostri prospect e si occupa di far aiutare le aziende a trasformare questi dati in azioni commerciali l'azienda è oggi incubata all'interno del Politecnico di Torino per iniziare ho detto che facciamo il CTO ma cosa vuol dire fare il CTO cioè nelle varie espressioni che possiamo trovare online diciamo che il CTO è sì l'anima tecnologica dell'azienda però deve avere una visione a corto e a lungo termine su quelli che sono gli investimenti che l'azienda deve fare anche a livello tecnologico per arrivare a raggiungere i propri obiettivi sono paroloni che però ci fanno capire che il punto di vista principale è qual è l'obiettivo dell'azienda e come dobbiamo aiutarla a raggiungere questo obiettivo questo fa da sé che l'azienda che fondiamo e anche con gli obiettivi che ci prefissiamo man mano che questa azienda cresce nel tempo cambiano questo arriva a fare una distinzione che ci dice effettivamente sapete che c'è esistono decine decine di modi di fare il CTO perché sono decine diversi modi in cui l'azienda ha bisogno di un CTO diverso ci sono aziende in cui la parte tecnologica di infrastruttura è principale quindi la roadmap tecnologica è importante ce ne sono altre in cui è diverso è la strategia che bisogna fare per arrivare a un obiettivo in altre addirittura si fa proprio contatto col cliente per l'integrazione e così via questo porta chi lavora all'interno dell'azienda chi come me è anche il fondatore dell'azienda e il CTO a dover fare quello che in azienda chiamiamo normalmente il gioco dei cappelli il gioco dei cappelli è una cosa molto all'inizio sembra facile ma vi assicuro che quando dovete pensare a un obiettivo dell'azienda o quello che volete voi come persone di interno dell'azienda alle volte vi ritroverete che queste cose non combaciano non che si arrivi a picchiarvi da soli come in Fat Club però effettivamente se prendete un problema a livello come founder e uno come CTO e uno magari come persona voi o come il vostro mio animo dev vi ritrovate che tutte e tre le cose non sono compatibili fra loro cioè bisogna trovare una quadra in cui ok ma l'obiettivo principale è l'azienda e bisogna fare in modo che queste anime possano condividerlo a un certo punto che una quella del founder del CTO prevalga sulle altre perché è più importante per gli obiettivi aziendali ed è una cosa che impari strato facendo non è all'inizio il tutto lo si fa anche all'interno di una start up giusto per complicare le cose io la prima volta che ho lavorato in una start up era il 2006 una start up americana di sicurezza informatica in cui mi dicevi lavori in una start up e dicevano cosa? cos'è? oggi più o meno tutti sanno che cos'è una start up ma ci sono anche delle altre definizioni di chi è iniziato molto prima a fare questa roba qui mi piace sottolineare tre aspetti che una start up è detta un'organizzazione temporanea questa è la prima cosa che oggi risulta quasi strana perché dopo che molti di noi hanno conosciuto cosa è stato per Nokia o per altre aziende che prima erano dei colossi e sono scomparsi ogni giorno quasi poi c'è stata anche una pandemia ben sappiamo ormai il concetto è che qualunque organizzazione fondamentalmente si considera temporanea cioè o sei in grado di evolverti o sei in grado di stare a passo col mercato oppure scompari un'altra la definiva era comunque un'iniziativa fatta in condizioni di estrema incertezza di nuovo cioè il fatto che oggi il tuo business esiste domani potrebbe non esserci più e poi c'è un'altra definizione che ha creato non pochi casini che è quella che una start up è una società concepita per crescere velocemente pensateci su questa frase perché effettivamente è complicata perché è stato pensato che una start up è una cosa che debba crescere in sei mesi in realtà l'idea iniziale era che la start up deve crescere velocemente rispetto agli altri player che sono sul mercato cioè se pensiamo a vaccino moderna cioè quella start up ci ha messo 12 anni per arrivare a quel punto lì la differenza è che le aziende da cui partivano insieme a lei mediamente ce ne mettevano da 15 a 20 quindi comunque è cresciuta velocemente ci ha messo tre anni meno dei concorrenti questo ti porta che nella start up anche noi stessi dobbiamo adeguarci e cambiare molto velocemente se penso a quando abbiamo aperto nel 2014 se dicevi che dovevi fare AI applicata al testo ok lo sapevano magari in ambito universitario ma fuori c'era poca roba il massimo dell'AI applicata al testo era Gmail che ti categorizzava qualcosa o una mail che finiva spam ora se diciamo noi facciamo AI applicata dico ah sì lo fanno tutti c'è una buzzword se facciamo AI per i suggerimenti non lo so se ne lo fa adesso lo fanno anche tutti se dicevamo noi creavamo già testo nel 2014 dicevano è impossibile una macchina non potrà mai farlo oggi ah sì lo cominciamo a fare questo vedremo dopo è una cosa anche importante e la cosa importante è quando fondiamo la nostra azienda soprattutto in ambito tecnologico che evolve a una velocità impressionante e capire dove vogliamo posizionarci proprio perché il nostro ruolo è diverso dagli obiettivi dell'azienda è fondamentale sapere quali sono questi obiettivi di questa azienda cioè io voglio fare integrare il mio prodotto lo devo sviluppare il mio prodotto voglio fare da ricercatore voglio fare qualcosa che ancora non è mai stata fatta devo saperlo prima magari di fondare l'azienda o di scegliere che io sono la persona adatta per fare il sito di quell'azienda così come cominciare ad avere un'idea di quali sono i miei migliori clienti mi rivolgo al business al consumer al business to consumer e questo mi porta effettivamente a dire ok allora io apro questa azienda io posso fare il sito di questa azienda perché più o meno adesso so quali sono i miei compiti che mi si aspettano perché l'azienda ha un obiettivo che sia crescere che sia farsi acquisire che sia farsi acquisire anche come che sia partecipare a bandi pubblici che sia avere finanziamenti europei cioè una cosa molto importante da avere subito chiaro cioè faccio il sito di questa azienda gli obiettivi dell'azienda sono questi dobbiamo ottenere certi risultati faccio un esempio che oggi tutti conoscono che cos'è Amazon Recognition non sanno però che c'è una startup che fondamentalmente ha fatto un pivot quindi è cambiato e la parte di SEO e la parte di CTO hanno fatto un lavoro per fare esattamente una exit con Amazon cioè nel senso dove hanno proprio detto noi cambiamo pelle perché dobbiamo e vogliamo essere acquisiti da Amazon cosa hanno fatto? Dice visto che Amazon non ha ancora un suo reparto cloud in cui forniscono servizi terzi intelligenza artificiale stanno cominciando adesso visto che gli altri competitor stanno già cominciando a farlo noi spostiamo tutto quello che facevamo sugli altri cloud solo su Amazon e lo forniamo a tutti i clienti di Amazon che troviamo nei forum che sono scontenti del fatto che Amazon ne abbia uno suo nel momento in cui hanno cominciato ad attirare quel pubblico quando Amazon ha detto dobbiamo avere anche noi questi servizi perché ci sono clienti scontenti che minacciano di lasciare il nostro cloud loro erano già lì guardate non dovete fare niente ci acquisite siamo già lì giriamo già sul vostro cloud siamo pronti quindi non è stato un caso hanno creato un'azienda e fate il periodo di questa azienda proprio mirando come obiettivo a fare un exit strategico quindi a livello di CTO non dovremo solo occuparci di tecnologia dello sviluppo ma saremo chiamati a far parte della parte dirigenziale anche a avere le metriche a far parte di tutto il processo di assunzione di garantire dare le roadmap delle nostre tempistiche e a studiare cosa fanno i competitor e altro ancora la scelta la scelta della tecnologia ne parlavamo proprio prima che oggi esce di tutto è fondamentale a secondo del prodotto che tu hai deciso di produrre e a chi vuoi vendere questo prodotto scelte banali nella startup di sicurezza informatica la tecnologia che potevamo utilizzare era definita perché? perché poter essere adottata da alcune compagnie dovevano avere servizi di certificazione ISO dove poter essere criptata per poterlo fare non c'era molta scelta potevi usare solo quella la stessa cosa la mia soluzione funziona solo on cloud o funziona anche on premises posso poterla installare su un altro cloud sì o no? pian piano che l'azienda si evolve si arriva anche a determinati punti in cui dice ok per la mia azienda in realtà la tecnologia è irrilevante cioè occupa una parte molto piccola di quello che poi è l'obiettivo e quello è il fatturato che porta all'azienda e anche questo è uno switch importante da riuscire a capire la nostra tecnologia diventa obsoleta quindi la cosa che ho fatto adesso magari fra due anni non varrà più nulla per molti versi è replicabile e non sempre difendibile cioè se faccio hardware magari un filo di più se faccio software difficile e poi devo anche decidere quanto deve essere complesso per qualcun altro provare la mia tecnologia cioè è diverso dire ok la puoi prendere e la installi oppure non è un componente che va all'interno di un processo è tutto qualcosa che dobbiamo sapere prima di iniziare perché come ci ricorda Sant'Inadella di Microsoft ti dice sapete che c'è ad oggi tutte le company sono software company il che vuol dire che non c'è più uno stack tecnologico per cui dire io uso questa tecnologia uso quella tecnologia adesso tutti i nostri progetti sono un mix di tantissime tecnologie diverse una volta che abbiamo definito che chi sono i nostri clienti quali sono i miei obiettivi qual è la tecnologia che sto utilizzando e che avrò come roadmap ricordiamo sempre sito a breve termine a lungo termine dobbiamo anche misurare se quello che stiamo facendo funziona e quindi dobbiamo trovare delle metriche che ci dicano effettivamente se questo funzioni che non sono solo le metriche ok non ho test quando faccio i test i test passano ma soprattutto quando fai magari ricerca e dire ok ma io sono al passo con la ricerca sono più avanti con la ricerca e soprattutto dimostrarlo a chi lo devo dimostrare a noi stessi al cliente all'investitore e il perché funziona e perché una delle tante verità delle metriche è testuale parole se ti piace quello che vedi stai guardando la cosa sbagliata cioè si parte dal concetto che se devi fare l'innovatore quello che vedi ok ti deve piacere però deve essere sempre qualcosa che puoi migliorare deve essere sempre qualcosa che guardi sì però si può fare meglio al posto delle metriche lo si può fare anche col prodotto ti dicono il prodotto rilascialo il prima possibile se aspetti che sia perfetto non lo rilascerai mai cioè aspetti che ti arrivano le critiche aspetti che ti arrivano le cose che non ti piacciono che i clienti si lamentano solo lì puoi migliorare per quanto non faccia bene all'ego però la realtà è quella nel momento in cui l'azienda comincia a crescere ovviamente verrà il tempo che magari non ce la potete più fare solo con i fondatori iniziali avete bisogno di assumere personale assumere personale è sempre un'arma a doppio taglio il processo di assunzione va di pari passo col processo di licenziamento cioè dovete essere pronti ad assumere qualcuno se siete pronti a licenziare qualcuno all'inizio anche l'assunzione vi rallenterà dovete trovare la persona giusta dovete fare i colloqui dovete sapere esattamente cosa vi serve in cosa vi serve in quale progetto e quindi all'inizio comunque il vostro processo aziendale rallenterà è molto più facile fare un meeting se siete 4 in azienda se siete 40 in azienda le cose cioè la struttura che si verrà a creare è complessa quindi dovete anche prevedere in anticipo tutta la parte di assunzione non potete prendere un contratto e dire poi assumo il personale poi lo formo per banalizzare un articolo di Forbes dice ok ad oggi c'è anche questa roba qui cioè se assumete qualcuno sapete che rallenterete per un po' ma poi vi aspettate di aumentare soprattutto quando siete piccoli se una persona su 10 non funziona si nota molto di più se una persona su 1000 non funziona la parte di tempistiche ovviamente fa parte della vostra roadmap quindi se si decide di sviluppare qualcosa se si decide di comprare qualcosa di implementarlo ci saranno delle consegne da rispettare vi verrà chiesto dagli investitori da voi stessi se ha senso lavorare dei brevetti se ha senso puntare come l'ha fatto quello di Orbius per il Reconnection a un exit investimenti scadenze tutta quella roba lì una domanda che mi fanno spesso sui brevetti è se ha senso in Italia brevettare il software allora in Italia si può brevettare il software la risposta è sì purché questo superi lo stato dell'arte che è una di quelle cose che ritorniamo alle KPI cioè come faccio a dimostrare che è tutto lo stato dell'arte è un casino in realtà il software lo si brevetta come sistema e in realtà lo si brevetta soprattutto quando si è molto piccoli più per dare peso alla vostra exit che non per difendere veramente un software la differenza qual è? se io faccio il software e una mega big company me lo copia ok hai voglia di fargli causa una mega company se però due mega company si stanno facendo la guerra e una può comprare te e mettere quel brevetto contro qualcun altro lo faranno anche questo il brevetto è un'arma di exit la cosa su cui perderemo la notte sono i competitor starà a noi studiare la parte tecnologica dei competitor la parte tecnologica parte dal concetto che voi fate intelligenza artificiale fate questa roba qui lo fa anche azure lo fa anche google sul loro cloud perché siete differenti perché potessimo dimostrare che siamo differenti perché possiamo prendere la nostra nicchia di mercato che non è quella generalista oppure perché loro non lo fanno e perché possiamo noi andarci a inserire in quella nicchia magari per essere comprati magari un giorno ma sufficiente per prendere quei clienti che hanno bisogno di quelle robe lì allo stesso tempo rientra sempre quanto tempo diventa obsoleto e quanto mi costa cambiare succede che voi sviluppiate qualcosa qualcun altro la fa e la vostra scelta per quanto non mi possa piacere è dire ok questa componente non ha più uno scopo all'interno dell'azienda conviene comprarla o conviene utilizzare quella di un sistema terzo e noi lo sviluppo spostarlo da un'altra parte nella parte quindi di competitor una cosa che mi tanto senti dire non ho competitor allora la parola non ho competitor è vera ma parte dal concetto che non abbiamo competitor magari in quello che stiamo facendo noi abbiamo sempre un competitor ma le che vada ne abbiamo sempre solo uno che è il tempo cioè se noi vogliamo che un nostro cliente utilizzi il nostro prodotto dobbiamo andare a parlare con quel cliente per capire cosa usa quando non usa il nostro prodotto perché ad oggi se quello è veramente un problema o se quello lo fa manualmente o fa qualcos'altro noi dobbiamo materialmente togliere prendere quel tempo che lui usa un altro prodotto o un'altra attività per riuscire a fargli usare il nostro quindi lo studio del competitor diventa anche lo studio di tutti i competitor cioè se abbiamo identificato qual è il mio cliente il mio cliente nella vita fa questo devo riuscire a capire cosa usa quando non usa me cioè se non stai usando Ghostwriter stai utilizzando AWS se non stai utilizzando Visostudio Code stai utilizzando Webstorm perché dov'è che posso andare a studiare che mi posso andare a metterli dentro ed è un lavoro di tutta l'azienda sia la parte commerciale ma vedi come si deve presentare ma anche la parte tecnologica che poi va te la mente deve andare a dimostrare come quella cosa ti migliora la vita e del perché ti migliora la vita e quindi molta parte del nostro lavoro è anche studiare gli altri studiare come si pongono studiare qual è la loro documentazione qual è il loro caso di studio perché lo mettono in quel modo lì a chi lo hanno presentato in quale fiera si sono presentati perché ci sono andati dalla parte tecnologica ovviamente il CTO è la persona che deve fare questo lavoro perché succedono queste cose qui un grande acquisisce altre aziende in realtà non stiamo parlando io non mi aspetto che domani mi bussi Google e mi dia dei soldi per dire ok falo che mi piacerebbe tanto però so che non sono a quei livelli ma nel momento in cui avvengono queste acquisizioni in realtà dobbiamo stare attenti se queste acquisizioni sono la fine di un trend o l'inizio di un trend l'inizio di un trend vuol dire che se Google si è interessato a fare questa acquisizione si aprirà una gara per essere allo stesso pari che ha portato Amazon a comprare Reconnection quindi saranno le piccole che compreranno le piccolissime e viceversa tante piccole scatole a stile matrioska per arrivare poi a dire ah sai che c'è se gli altri ce lo hanno io faccio prima ad acquistare chi lo già fa chi lo fa già quindi non è tanto fortuna che Reconnection è stata acquisita sempre lì fa parte di una roadmap erano lì al momento giusto ma perché erano lì perché ci sono voluti essere lì e questo fa parte del trovare la scelta giusta un caso che mi ha fatto divertire parecchie è scoprire questa storia qui tutti noi che ha qualche anno in più l'ha visto magari in diretta noi l'abbiamo visto più al cinema che in ferita lo sbarco nella luna quindi tutti noi cosa abbiamo visto abbiamo visto l'annuncio ok siamo arrivati sulla luna fantastico ok più o meno google ha comprato next amazon ha comprato recognition quindi noi vediamo una persona sulla luna che anno era il 1969 chi era ok hamström che ha schiaffato il primo passo dove si trovava sulla luna bla bla abbiamo visto il quadro generale nel quadro di dettaglio qualcun altro ha visto qualcosa si è focalizzato sulla scarpa sullo scarpone cioè ha visto tutto questo e ha guardato lo scarpone ho detto mamma mia se riusciamo a fare uno scarpone fatto in questo modo che può andare sulla luna uno scarpone in questo modo può andare dappertutto nel 1969 Giancarlo Zanatta torna in Italia dopo aver visto a New York questa roba qui e fonda la Moonboot è lo stesso concetto che ci viene chiesto analizzare i competitor vedere le nuove tecnologie come possiamo cambiare anche la nostra strategia perché c'è qualcosa di più interessante per i nostri clienti quindi pian piano una cosa che non ho mai fatto in vita mia ho dovuto imparare tante cose anche sull'economia di un'azienda quindi non è soltanto il costo di una tecnologia del cloud a lungo terra e prende una decisione oggi che impatti avrà fra tre anni cinque anni la differenza del costo del personale per un determinato sviluppo ok il costo di acquisizione di un cliente il costo di una demo il costo di un POC il costo di uno spin off di qualcosa che abbiamo ricercato sono tutte robe che rientrano anche nei nostri casi cioè verrà chiesto a noi quanto il famoso quanto tempo ci vuole a fare qualcosa diciamo che però si ampia di molto il concetto c'è l'eterna lotta ti sembra un MBA non ti serve un MBA non ti serve magari un MBA ma tanto le basi dovrei studiarle lo stesso cioè se devi andarti a sedere o fare un consiglio di amministrazione o fare un report in cui c'è scritto il perché il per come le basi di come vengono calcolati tutti quei bei calcoletti di prima quindi quale sarà il costo il costo di perdita il costo di acquisizione quale sarà il rientro dell'investimento su tutte cose che per nella nostra parte da sitione la parte tecnica dobbiamo fare noi anche soprattutto all'inizio quando siamo in founder magari siete in due siete in tre non è che ve li faccio tra virgolette cioè comunque all'inizio cioè forse quando l'azienda cresce magari ve ne occuperete un filo meno ma soprattutto all'inizio sta a voi dire quanto costa e perché perché sto scegliendo questa tecnologia e non quest'altra poi soprattutto nella parte di AI nella parte di etica di legislazione non dico che vi tocca studiare anche legge ma avere un avvocato competente con cui parlare prima di prendere qualsiasi decisione è una parte di nuovo che farà parte del compito di un CTO soprattutto nell'epoca del dato magari sul cloud dove sta questo dato in quale nazione sta come viene conservato che scadenza ha questo dato cioè mi viene assegnato questo dato poi magari dopo un anno devo cancellarlo dopo 5 non posso più usarlo non posso spostarlo da una nazione all'altra ci sono anche casistiche in cui un dato puoi vederlo ti viene concesso di poterlo utilizzare aggregato quindi magari come forma di cluster ma non potete mostrare il singolo adesso in comunità europea si discute anche a chi appartiene il dato cioè il dato appartiene a me l'azienda che l'ho raccolto a me il sorumano quello generato sono tutte problematiche che soprattutto in fase di sviluppo e di mantenimento di un prodotto non c'è niente da fare dovete prendere in considerazione quindi ci sono varie filosofie di ok io costruisco solo sulle basi solide cioè sulla legge che c'è adesso oppure faccio un prodotto che possa comportarsi in maniera diversa se si trova negli Stati Uniti o se si trova in Europa per esempio poi c'è stato chi è arrivato alla caso fantastico direttamente dice che costruisco dove non mi prenderanno mai vabbè è un'opzione che è stato fatto veramente nelle Filippine un'azienda l'ha spostato lì la base per fare lo scrapping delle pagine di Facebook quando Facebook rimosse la possibilità di darti per esempio gli hobby e ha rimosso il dato del tuo lavoro per esempio che è visibile se tu sei amico di quella persona lo vedi si sono spostati lì e loro lo raccorgono lo stesso qual è il punto che comunque noi come aziende in Europa non puoi comprarlo quel dato cioè comunque è illegale averlo e poi la mia nota dolente che ci ho messo dieci anni a venirne fuori era quello che sì dobbiamo andare come CTO dobbiamo imparare a parlare in pubblico e che parlare in pubblico non vuol dire già solo parlare in pubblico ma vuol dire anche uscire dalla meccanica di un linguaggio tecnico dobbiamo imparare a parlare a diversi livelli quando viene un investitore a parlare con tutti i founder o con i CTO si aspetta che tu sappia raccontare la tua startup che non vuol dire solo quello che è successo ma anche cosa stai facendo adesso e quello è il futuro si aspetta che tu lo faccia in termini semplici cioè che l'obiettivo sia chiaro quello che otterrò ma che non si scenda nel tecnicismo del come lo si faccia se non viene spessamente richiesto e ti viene anche chiesto qual è la tua idea che deve essere condivisa perché fai parte di un gruppo di founder e di investitori ma anche unica allo stesso tempo cioè il perché l'hai fondata che vi assicuro non c'è niente di peggio quando fai tre domande a tre founder ti danno tre risposte diverse cioè l'idea che dia all'investitore ma vi parlate siete d'accordo cioè o vi accoltellate tutte le mattine per riuscire a capire dove portare avanti l'azienda e questo lo si fa allenandosi quindi parli con i clienti parli con i collaboratori parli con gli investitori ci sono anche i pitch ai concorsi e quindi c'è anche quello le start up partecipano ai pitch ai concorsi e ci sono dei concorsi specifici in cui si richiede la parte del CEO e la parte del CTO cioè c'è proprio un pitch prettamente tecnico in realtà ci sono anche dei concorsi in cui il pitch è totalmente tecnico o uno della comunità europea in cui effettivamente entri in una stanza e subisci un interrogatore di due ore su tutta la tua architettura perché dici ok l'hai fondata voi devi saperne tutto cioè siete in dieci devi sapere morte di vita e miracoli più delle volte viene in inglese e fa parte dei compiti materialmente noi siamo l'azienda noi rappresentiamo l'azienda dobbiamo essere in grado del nostro piccolo di saperla argomentare di saper dire cosa facciamo e di conoscerla il tutto sarebbe bello che si arrivasse a questa roba qui se quello che faccio la devo spiegare non funziona non è che non funziona la cosa vuol dire che magari ho sbagliato i miei termini ho parlato in termini tecnico magari con l'investitore ho parlato come se fosse l'investitore o un mio collaboratore cioè dobbiamo avere anche la capacità pian piano di apprendere come e a chi devo parlare all'inizio è difficile si fanno come tutto pian piano ci si allena si sbaglia come giusto che sia ma quello fa parte anche del nostro lavoro quando si inizia parliamo con tutti ascoltiamo tutti poi sbagliamo da noi e impariamo io ho fatto la mia mezzoetta adesso chiedetemi se avete qualche domanda in particolare di quello che ho visto di quello che sento come mentor tutto il resto l'ultima me lo chiedo tutte le mattine e mi alzo dal letto ma chi te l'ha fatto fare soprattutto se come avete visto mi seguo su LinkedIn avrei visto che adesso collaboriamo con un'azienda che ha la sede in California e la parte di sviluppo a Melbourne io non so come scelgono i fuso orari però vi assicuro che quando vi mettono una call col cliente grosso 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 e ti arriva l'invito ma sì ma la facciamo alle 3 del mattino e vabbè si deve fare alle 3 del mattino e si farà la call alle 3 del mattino ovviamente in inglese ma quello va non so la mia comprensione dell'australiano col californiano alle 3 del mattino sta migliorando in maniera impressionante ma devo fare anche questo mi ringrazio quelli sono i miei contatti quindi poi se volete restiamo in contatto contattatemi iscriviamoci su LinkedIn va bene tutto grazie mille Mauro ovviamente chi vuole far domande potete anche aprire il microfono e chiedere per rompere il ghiaccio io me ne sono preparata qualcuna magari parto con una vai tu hai fatto una descrizione di appunto di l'ambito startup sì però per lo meno per quello che conosco io dalla letteratura diciamo c'è un po' di differenza tra fare startup in Italia e fare startup in Europa barra negli Stati Uniti e non solo per i numeri diciamo dei soldi che si possono investire ma anche proprio secondo me per come e mi sembrava abbastanza chiaro per quello che hai raccontato tu per come una startup viene concepita e portata avanti perché dico così perché credo per lo meno per quel poco che ho potuto tra virgolette leggere tra libri e comunque documentarli so che la startup americana è qualcosa che viene appunto fatta per scalare una delle citazioni che hai detto all'inizio appunto lo spiegava bene cioè loro partono da un'idea tendenzialmente a volte basta avere solamente l'idea per loro perché ovviamente da quello che si dice un milione di euro i Silicon Valley lo danno a tutti ovviamente si scherza però comunque si dice questa cosa e poi da lì si parte subito pensando di assumere scalare validare il mercato prima di tutto validare la soluzione eccetera quindi è proprio un'impostazione secondo me diversa di fare imprenditoria mentre in Italia per quanto comunque siano tutti effetti start up vuoi che comunque i soldi che girano anche se sono aumentati negli ultimi anni sono comunque di un ordine di grandezza inferiore se non due rispetto a quelli degli Stati Uniti però vedo che la start up nonostante si chiami start up abbia ancora un po' un'impronta dell'azienda classica italiana per quanto poi cambi ovviamente il dominio e cambi il contesto la seconda tua esperienza sto dicendo cazzate o devo dire nel 2006 nella start up americana era così anche in Silicon Valley tra virgolette ora anche lì negli ultimi 5 anni 5-10 anni è molto diverso perché adesso anche se è vero ti danno 5 milioni è il seed cioè tu vuoi partire ti danno 5 milioni però è anche vero che un ingegnere in Silicon Valley ti costa 250-300 mila dollari l'anno e questi sono i prezzi di un ingegnere in Silicon Valley quindi in realtà sì ne prendiamo meno soldi però in realtà alla fine ti rimane diversa e loro hanno più l'approccio del devo scalare subito per fare il mercato però quello è un tipo di fare start up cioè io ne ho visti tanti altri tipi ho visto quello in cui ho lavorato io in realtà l'hanno fondata con l'obiettivo di fare la exit a due aziende le hanno proprio puntate sono andati gli investitori si sono fatti dare i soldi dicendo noi sappiamo che loro hanno questo problema sappiamo che non lo stanno risolvendo abbiamo un advisor di quell'azienda che ci fa da champion cioè che ci introduce e noi entro tre anni venderemo il prodotto a quell'azienda lì ma abbiamo venduto dopo due però il concetto era quello la differenza secondo me è che quelle grosse noi lo sappiamo perché fanno tanto boom però difficilmente sappiamo tutte le altre che vengono acquisite ce ne sono centinaia ogni anno che vengono acquisite e quelle fanno parte del gioco del ok non sei diventato grande però mi risolvi un problema o c'hai un brevetto di oppure io devo far partire una unit che faccia questo al posto di cominciare le assunzioni per prendere tutto ti prendo in blocco quindi in realtà magari non conosceremo mai quella start up perché magari è nato con un milione ne ha fatturati due o tre e poi subito è stata acquisita ed è scomparsa però anche quello fa parte del gioco l'altra cosa dici tu lo scalare velocemente è una cosa per cui diciamo però sempre rispetto al mercato la storia di Airbnb è Airbnb ha fatto 13 pivot prima di arrivare a essere Airbnb cioè per 13 12 volte è fallita cioè questo è il concetto ha provato 12 volte 12 volte è fallita alla 13esima è riuscita a diventare Airbnb moltissime altre aziende non ce la fanno dopo 10 si fermano però è anche lo scopo del fondatore cioè il concetto è noi magari fra un anno non ci saremo più cioè non possiamo dirlo la realtà è che se tu hai imparato qualcosa tutto quello che hai prodotto verrà acquisito da un'altra azienda o le mie stesse unit verranno acquisite in open innovation e finiranno a fare qualcosa all'interno di qualcun altro noi effettivamente in Italia non abbiamo la potenza economica per dire prendo dei soldi e strascalo all'inizio però tutto il resto possiamo farlo cioè tutta l'altra parte strategica del dire mi faccio acquisire di ovviamente io non punterò magari a Google punterò a un'azienda italiana che magari è 100 volte più grande di me che però so che per i suoi clienti non riesce a fornire quel prodotto o ad oggi dovrebbe iniziare a sviluppare quel prodotto non vado a fare di concorrenza non ho i commerciali non ho i soldi però vado al contrario mi c'è a Leo cioè vado materialmente a puntarli per dire ma lo sapete che con il nostro prodotto potreste fare questo oggi ma lo sapete che con il nostro prodotto potreste fare questo vado magari la stessa fila di mercato dove va lui per parlare con i suoi clienti per dire ma lo sapete che noi possiamo darvi questo pezzetto sì noi non abbiamo la parte di facciamo il boom ma andiamo sopra però effettivamente sull'altro ci si può lavorare qualche mese fa è stata acquisita un'azienda di Cuneo da Amazon è stata acquisita un'azienda di Cuneo che si occupava della parte di gestione dei container quindi alla Kubernetes e tutto il resto l'azienda era di Cuneo però faceva esattamente quello quando Amazon ha detto cavoli ma cioè funziona meglio il loro prodotto che il nostro li ha acquisiti facevano un piccolo pezzo ora poi se lo trovo lo mandiamo nella chat però c'è possiamo farlo molto nel piccolo molto in nicchia ma si può fare la parte del grosso sono d'accordo non abbiamo i soldi per poter fare alla Paypal per intenderci cioè la storia di Paypal è emblematica a Paypal diedero come aumento di capitale 10 milioni di dollari perché loro avevano promesso di portare un milione di iscritti gli diedero quei soldi e loro fecero in maniera facilissima chi si iscrive regaliamo 10 dollari ho letto per più di leggere il libro di Peter Tyer così sobravo pure io a fare 10 milioni di iscritti però così si è bravi tu divertente però la vera cosa è che lo hanno fatto anche altri ma gli altri hanno fallito perché? perché hanno preso solo quel pezzo iniziale mentre loro avevano costruito tutta una strategia per dire ok ne prendo un milione ma poi che ne faccio loro avevano già cominciato a fare l'accordo con eBay cioè nel momento in cui avevano effettivamente quel milione di persone poi hanno detto ok ma adesso che ci faccio con un milione di persone mentre tanti altri non lo avevano quindi magari hanno fatto un milione di iscritti che si ritrovavano con un prodotto che non potevano utilizzare perché non potevano fare in realtà gli acquisti sì loro avevano già validato la soluzione e sapevano che per ogni utente loro erano in positivo detto questo porta gli utenti e scala e ricavi sì sì era un gioco diverso cioè loro giocavano su questa roba qui e ho detto sì mi serve un milione di utenti per fare massa critica e riuscire a far partire questo però avevano già costruito tutti i blocchetti del puzzle ok vediamo se c'è qualche altra scusate qualche altra domanda in chat se no io parto con la seconda domanda aprite pure i microfoni non fate i tibidi lasciamo pensare ancora qualche seconda allora magari se volete prenotarvi scrivete appunto in chat così dopo vi chiamo direttamente la mia seconda domanda è c'è un'altra tendenza che tipica probabilmente dell'Europa ma lo vedo particolarmente forte in Italia che è quella del copycat cioè si sa che negli Stati Uniti a livello sia di visione probabilmente del mondo imprenditoriale che della tecnologia sono cinque anni avanti non in ambito di competenze per gli ambiti di competenze siamo uguali però nell'ambito imprenditoriale business e di visione strategica sono cinque anni avanti quindi sento sempre più spesso che tanti fanno startup così ovvero prendono un business un modello di business che ha funzionato negli Stati Uniti quindi che è già stato validato lo italianizzano perché non tutto quello che funziona là funziona anche qua però vedono appunto se c'è un margin che questa cosa possa funzionare anche in Italia e dopo si partono e partono quindi dopo a semplicemente a replicare qualcosa che esiste già quindi hanno già validato la soluzione quindi validato l'idea con qualche diciamo test fanno una validazione del mercato in Italia quindi senza magari banalmente con un MVP piccolo o con una landing page tirando un po' di pubblicità un po' di gente con la pubblicità e poi fanno questo tu come come la vedi questo aspetto? questo aspetto è un po' diverso vi posso dire la mia esperienza con gli americani e gli italiani sì la differenza da noi è stata quello che vediamo ancora oggi che negli americani hanno più propensione al rischio diretto il che vuol dire che molte delle volte se tu presenti una soluzione innovativa fai prima al fatto che loro la buttino dentro e te la usino quindi è anche facile avere i primi beta tester se così vogliamo dire e poter validare qualcosa in Italia mi è successo spesso di fare tanti meeting per poi arrivare a dire no non proviamo il test c'è tante riunioni in cui però se vai a conteggiare tutti i meeting che hai fatto e le persone che erano presenti a quel meeting e il ruolo che avevano le aziende e quanto erano grandi le aziende in realtà il meeting era costato dieci volte più che far fare il test magari a noi unit interno questo l'ho vissuto e lo continuo a vivere mentre effettivamente negli Stati Uniti con le persone con cui parliamo noi fai una riunione al massimo due e a due ti dicono sì o no lo proviamo non lo proviamo e la cosa che mi piace è che sono brutalmente sinceri cioè se la cosa non gli piace alla seconda riunione ti dicono tutto quello che non gli piace del tuo software brutalmente cioè non funziona questo fa schifo questo costa troppo questo non mi ha dato il risultato che mi aspettavi e anche questo ti aiuta a validare il mercato cioè ti aiuta a capire ok questo cliente l'ho perso perché ci ho fatto una figuraccia però tutto quello che mi ha detto magari lo rievito e mi è in grado in Italia mi è capitato di dire mi dicessero tutti no è bello è bellissimo è bellissimo però non lo rinnoviamo e penso che sia più questa questione culturale che ti dia difficoltà poi realmente a validare il mercato perché se non sai cosa non funziona devi andare a tentativo questa versione culturale sì questa roba culturale è abbastanza abbastanza strana racconto solo un aneddoto che ancora mi fa ridere una mega azienda alla fine delle stendenti riunioni uno dei mega direttori che stava per andare in pensione quindi tra l'altro non aveva più niente da perdere ci guardò in faccia e dice ragazzi qui una decisione non la prenderanno mai fate prima di andarvene voi perché tanto vi continueranno a palleggiare riunioni 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 perché qui dentro funziona che se prendi una decisione sbagli ti sei fregato la carriera se prendi una decisione giusta fa carriera il tuo capo infatti lo abbiamo ringraziato per l'onestà almeno ma quella è una cosa che poi impari cioè se da una parte non riesci a concludere o arrivare a parlare già di prezzi o di implementazione in uno due tre riunioni materialmente non lo chiami più quel cliente oppure lo richiami dopo un anno quando magari sei cresciuto hai più numeri puoi dimostrare più casi d'uso cioè puoi essere più interessante per loro perché magari è semplicemente troppo presto o magari anche per loro magari tu sei la persona giusta ma loro non si sono ancora resi conto che hanno quella necessità ti ho detto noi quando parlavamo di intelligenza artificiale applicata al testo che era qualcosa che potevi utilizzare sette anni fa quasi otto anni fa era una roba che ti guardavano sia in università quando fate i giochini ma poi in produzione no o è una cosa da big player cioè adesso tutti danno per scontato che ci sono un sacco di cose che si possano fare ma adesso viviamo esattamente l'opposto cioè mentre prima eravamo uno che ti diceva una cosa che per te era fantascienza adesso siamo uno dei tanti che ti diciamo che questa cosa si può fare però la prevenzione al rischio ad oggi è diversa almeno fra Italia e Stati Uniti è ancora diversa e questa è la verità che poi dopo si declina in tanti modi su tutti gli aspetti diciamo di quello che riguarda l'imprenditoria quindi sì perché poi lo spalmi su tutta la filiera a tutti i livelli esatto sia dal prendere diciamo finanziamenti dove sono un po' più per virgolette attenti diciamo dove mettono i soldi appunto al cliente che decide dopo una prossima riunione fa parte del gioco esatto cioè la cosa importante è che adesso dopo anche sette anni otto anni che si fa questa vita dico a chi parte adesso partecipate ai meetup cioè partecipate alle riunioni su Reddit andate a parlare con gli incubatori sia per parlare con i mentor ma poi fatevi anche un giro andate anche a bussare faccio scusa posso farti proprio così ma brutalmente tanto se dovete aprire un'azienda una start up dovete metterci dei soldi voi non c'è tanto da fare i timidi andate a rompere le scatole anche per farvi raccontare quello che ha passato chiunque io mi faccio il bello di essere anche in un incubatore anche quello cioè quando sai ah è successa questa cosa a me dice ah guarda magari è successa anche a Tizio giusto per sapere come è successo a lui poi magari in sei mesi ecco lo scenario è completamente diverso è cambiato però perlomeno sapete un appiglio qualcosa chiedo scusa agli amici di Nice che ho detto che erano alcuni in realtà mi dicono che era Dasti ho messo il link sono cose tutte comunque loro nel 2016 Amazon compra quell'azienda che si occupa di software poi ne ha comprato anche un'altra ma ne ha comprate altre e che ovviamente non fanno rumore come Microsoft che vuole comprare Discord cioè o Salesforce che compra Slack cioè per qualche biliardo sono acquisizioni minori però che per chi l'ha fondata e aveva un'idea il fatto che ti ebussi Amazon alla porta sì ecco poi infatti anche riguardo a questo i soldi che può fare una startup italiana in un mercato italiano barra o anche diciamo internazionale però diciamo appunto neonata sono sicuramente di 3-4 ordini di grandezza inferiore rispetto a quelli che potrebbe fare una big player con la stessa tecnologia quindi a loro diciamo investire anche se sei il signor nessuno gli custa praticamente nulla ti possono riempire i soldi però dopo loro riescono a farne molto di più c'è l'esempio l'acquisizione di Whatsapp da parte di Facebook lì è una diverso lì dipende più che altro sia dal tipo di società sì ma dipende anche dalla prospettiva ovvero dipende se innanzitutto te propongono dei soldi tu liberamente da founder o da chi prende le decisioni lì accetti o non accetti questo fa parte del gioco perché poi ovviamente chi compra fa la sua valutazione dipende se la valutazione viene fatta allora quanto è che fatturi allora ti pago un tot in più un tot in percentuale del tuo fatturato potenziale dall'altro è se tu hai un asset in cui Whatsapp non valeva 19 miliardi di dollari non c'era l'intera che valesse 19 miliardi di dollari ma Facebook non lo ha comprato per quello Facebook lo ha comprato per dire se io compro Whatsapp in 10 anni fatturerò 50 miliardi di dollari era sempre lì cioè Whatsapp faceva parte di tutto il percorso di strategia che Facebook aveva per scadare la sua pubblicità quindi in realtà l'avrebbe comprata lo stesso cioè probabilmente dice se tanto sono sicuro che ne fattura 50 non vanno bene 19 facciamo 25 facciamo 30 e si negli Stati Uniti siamo molto più abituati a vedere questo perché poi è eclatante però non sono tutte così la maggior parte sono come amici di Cuneo cioè la maggior parte sono piccole aziende che nascono crescono e poi vengono acquisite vengono smembrate vengono acquistate vengono presso il personale perché poi c'è anche quello ti succede anche quello ci succede che ti arriva il big player per dire ti voglio comprare tu dici no dici ok allora offro il doppio a tutti i tuoi dipendenti cioè in realtà ti svuota è come Facebook che bussa Snapchat cioè Snapchat dice no e Facebook gli ha copiato le stories due minuti dopo fa parte del gioco e quando cominci a ballare sai che succedono queste cose e sai che potrebbe non presentarsi mai nessuno alla porta potrebbe presentarsi qualcuno alla porta solo se sei con l'acqua alla gola che non ce la fai più e va bene così detto da noi fanno meno fanno meno sono meno eclatanti perché le somme sono diverse però è anche vero che è molto diverso l'investimento che hai inizialmente anche in base a quanta quota societarie vuoi cedere cioè quando qualcuno fa la mega exit bisogna anche andare a vedere cioè tolte quelle eclatanti storiche ok ma quelle normali ok che magari ti hanno dato 50 milioni di dollari però magari a te di quella società che hai fondato ti è rimasto il 5% quindi in realtà quando poi fai la exit ti fa il grosso dei soldi sono giustamente gli investitori i WC che hanno creduto in te che ti hanno aiutato a far parte di un network ti hanno presentato ad altre realtà ti hanno aiutato a crescere perché tu senza quelle realtà non saresti andato da nessuna parte è vero cioè io dico sempre questo è quello che si chiama l'effetto ombra cioè l'effetto ombra è quella roba per cui io oggi lavoro per la mega azienda alzo il telefono e l'altra parte mi risponde qualcuno fondo la mia società alzo il telefono e l'altra parte non mi risponde più nessuno perché non sono più Mauro Benici di ma sono Mauro Benici che rappresenta me stesso cioè il WC negli Stati Uniti come anche in tutte le parti ti aprono un network cioè fai parte di e il network è una cosa fondamentale se vuoi fare startup cioè se vuoi vendere il tuo prodotto a qualcuno quel qualcuno lo devi conoscere si deve fidare di te chiaro ok abbiamo chiacchierato un po' ti ho fatto qualche domanda sollecito sempre la chat ma vedo che non sono state domande non so se qualcuno ha maturato recentemente ok Mauro che dici c'è ancora qualcosa a cui volevi parlarti? ti ho detto io nel mio animo nerd il fatto che mi si allontani sempre di più dal codice lo soffro sappiatelo è una cosa che succede potrebbe succedere potrebbe non succedere mai però poi succede che riprendi a scrivere codice nel tempo libero magari per l'azienda stessa allora ti crei di un pazzo sono pazzo ho fondato la mia azienda per scrivere il mio codice che mi piace nel tempo libero poi nel 2006 vinciamo il concorso della miglior startup italiana di Azure al Web Summit veniamo invitati lì e fanno una cena dove eravamo solo in otto sette vincitori da tutta Europa e il CTO di Azure Mark Russinovic che ha la domanda ma perché lui nasce dev dev c'è chi lo conosce lui ha scritto un tool praticamente per andare a vedere quali erano i processi e cosa facevano i processi sulle macchine Windows Server cioè roba per cui dici io conosco pochi programmatori che sanno usarlo il tool immagina scriverlo e dice ma tu come hai vissuto questa cosa e lui si è girato tranquillamente dicendo ho ottenuto che nel mio tempo libero posso manutenere il mio assist internal tool faccio almeno sono pazzo ma sono in ottima compagnia perché è quella cosa diversa dei famosi dei cappelli cioè non ha senso che il CTO di Azure si metta a scrivere codice perché il costo aziendale di quella riga di codice sarebbe qualche milione di dollari no? e quindi per quanto gli piace per quanto è la cosa che voglia fare il suo ruolo gli impone di non poterlo fare a lavoro è così grazie Stefano magari Mauro ti potrei riproporre con un tool anche tecnico se ti andrà ti sentiremo volentieri che io ti ho già sentito appunto come dicevo prima diciamo che sull'ambito AI ci sono molte cose interessanti da ascoltare se avrai voglia di condividerle ti ascolteremo volentieri molto volentieri faccio parte anche della parte di beta dell'ONEX Runtime quindi è la parte intelligenza artificiale per far girare il vostro modello indipendentemente dalla piattaforma in cui lo avete sviluppato e dal framework in cui lo avete sviluppato dell'hardware su cui lo avete sviluppato che per me è parte fondante della società poter dire ok abbia sviluppato questo però lo do al cliente dove vuole lui quindi volendo anche un talk tecnico sulla parte di ONX Runtime o sulla parte magari anche dell'elaborazione del linguaggio che facciamo che è la parte anche bella da vedersi ti do un testo vediamo da questo testo cosa si riesce a ricavare cosa una macchina oggi è in grado di ricavare di scrivere volentieri interessante che quello si ok Mauro io ti ringrazio c'è aspetta ha scritto qualcosa Stefano sempre ha scritto io mi concentro su hyper device embedded per monitoraggio analisi dissi qualcosa del settore a livello di come si fa no a livello di come farci girare sopra un modello di AI sì possiamo fare un talk possiamo puoi scrivermi su LinkedIn ne parliamo tranquillamente face to face ok se non ci sono altre domande allora ci possiamo salutare dai grazie grazie ancora a tutti ci sentiamo è stato un piacere Mauro anche per me buona serata a tutti ciao ciao ciao